La gestione della nutrizione nell'atleta Nel rugbyista nello specifico varia molto perché ciascun atleta ha esigenze diverse che sono legate sia al ruolo ricoperto all'interno della rosa quindi al suo ruolo specifico, essendoci nel rugby ruoli molto diversi e compiti motori da svolgere sul campo molto differenti tra di loro ma anche rispetto a quello che è l'obiettivo che l'atleta deve raggiungere Da rugbyista anomalo quale sono, quindi estremamente leggero ho avuto una trasformazione fisica enorme quest'anno l'obiettivo mio è stato sempre quello di cercare di mettere peso per essere più performante a livello fisico in realtà ho trovato benefici nell'opposto quindi Herbalife mi ha aiutato a definirmi e ad alleggerirmi trovando una performance molto più efficace e una brillantezza che non trovavo da anni La possibilità di recuperare energia ti permette poi di essere anche mentalmente più preparato e più lucido Io ho avuto la possibilità di integrarmi attraverso alcuni prodotti Herbalife e devo dire di esserne rimasto molto colpito La mia esperienza con gli infortuni purtroppo è abbastanza ampia perché gli ultimi tre anni sono stati dei migliori tolto quest'ultimo anno ovviamente che sono riuscito a avere una continuità che mancava da veramente un sacco di tempo Questa è stata una stagione particolarmente produttiva dal punto di vista della preparazione atletica fin dai primi momenti e quindi dalla pre-season quando anche sollecitando i giocatori a carichi di lavoro molto impegnativi hanno risposto in maniera estremamente positiva Grazie a tutti Grazie a tutti